a un certo punto della mia vita mi è stato chiesto se volevo portare la rampicata nella città nel senso che la proposta era di scalare un monumento un palazzo simbolo di una regione o di una città e quindi ho scalato 20 25 monumenti in giro per per l'italia erano i primi anni 90 io non avrei mai più potuto scalarle se non in quell'occasione e quindi avere la possibilità di farlo e di farlo in un modo che mi piaceva pulito senza lasciare tracce artificiali solo un po di magnesite qua e là e attraverso questo anche la rampicata mi sembrava una bella cosa camaiore climbing festival dalla prossima settimana solo su icarus grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti